Il tiratore scelto, Carl Fairbourn, torna in azione in Sniper Elite 5. Stavolta deve sventare un piano che potrebbe portare i nazisti alla vittoria in una nuova campagna ambientata in Francia che introduce diverse novità. Dopo aver preso parte alla campagna africana nel 1942 e aver combattuto con i partigiani in Italia nel 1943, l'infallibile cecchino Carl Fairbourn parte per la Francia con l'incarico di far luce sul misterioso progetto Kraken. Un piano che potrebbe consentire all'esercito nazista di colpire le truppe nemiche prima ancora che approdino in Europa, ribaltando così le sorti del conflitto. Ma la storia di Sniper Elite 5 adotta lo stesso canovaccio di sempre. C'è un'arma mortale da individuare e sabotare, mentre il protagonista rimane purtroppo insondabile. Lo stereotipo dell'eroe senza paura che non riesce a uscire mai dal proprio ruolo. La trama non è più sofisticata del solito, anche e soprattutto per la caratterizzazione dei comprimari e degli antagonisti. La rinuncia al doppiaggio in italiano dopo tutti questi anni non fa che peggiorare le cose. Ci sono però alcune novità. La campagna è costituita da nove missioni piuttosto corpose e può essere giocata da soli o in cooperativa insieme a un amico, coordinando così le azioni e dando vita a sequenze di combattimento potenzialmente entusiasmanti. Qui le mappe sono piuttosto ampi e esplorabili liberamente e ricche di segreti. Le zipline ci permettono di spostarci rapidamente in alcune zone, mentre nuove capacità legate all'arrampicata consentono di accedere in maniera differente agli edifici controllati dai soldati nemici. L'invasione è un'altra caratteristica inedita. Un po' come accade nei Souls, questa permette a un secondo giocatore di entrare nella partita vestendo i panni di un ufficiale nazista per attaccarci. C'è poi la modalità sopravvivenza, giocabile da soli o in cooperativa, in cui l'obiettivo è difendere una serie di postazioni dall'arrivo delle truppe naziste all'interno di tre possibili scenari. Infine c'è il multiplayer, con le ormai tradizionali competitive per un massimo di 16 partecipanti che aggiungono un piccolo ma piacevole extra. Proprio come la storia, il gameplay rimane fermamente ancorato alla formula che ben conosciamo, pur con qualche piccola variazione sul tema. Le mappe aperte, viste a partire da Sniper Elite 4, implicano una sostanziale libertà di azione e di approccio che continua a fare la differenza. In questo modo, infatti, non si rischia di incastrarsi in una progressione prestabilita e si ha la possibilità di completare la missione esattamente come desideriamo. Potremo dunque agire in maniera strategica, taggando i bersagli con il binocolo e trovando dei punti rialzati da cui colpirli con il nostro fucile di precisione, magari dopo aver manomesso il solito motore a scoppio per coprire il rumore dello sparo ed evitare di allertare le truppe nemiche. Oppure ridurre le distanze, muoverci accovacciati nell'erba alta per restare nascosti ed eliminare le guardie con il pugnale o la pistola silenziata. O ancora, aprire il fuoco a viso aperto, consapevoli però che a quel punto ci ritroveremo addosso decine di nemici che proveranno ad accerchiarci. Le meccaniche stealth piegano l'intelligenza dei nemici alle esigenze del gameplay, facendo in modo che rimangano a lungo di spalle per favorire le nostre sortite oppure che non suonino l'allarme per più di un tot di tempo per evitare che l'intera missione venga compromessa. L'equilibrio raggiunto appare sensato e la novità delle abilità potenziabili risulta simpatica. I problemi però sono altri. Usciti dalla comfort zone dei tiri dalla distanza con concentrazione attiva che, grazie alle spettacolari killcam a raggi X, risultano ancora più sanguinolenti, il gameplay di Sniper Elite 5 si conferma modesto, approssimativo e confusionario. Colpa di movimenti e animazioni legnosi, certo, ma anche e soprattutto nel modo in cui Carly interagisce con lo scenario, rivelando basi tecnologiche francamente datate. Non aiutano i comandi, con svariate sovrapposizioni che in alcuni frangenti possono rivelarsi davvero fastidiose. Apprezzato invece l'uso dei trigger adattivi sul DualSense, che sfruttano la mezza pressione per la mira in terza persona e la pressione completa per l'Iron Sight. La grafica rimane infine parecchio datata. Le texture sono più definite e gli scenari scelti per questa campagna risultano affascinanti quando ci sono di mezzo dei fittizi castelli francesi, ma la qualità dei modelli poligonali e delle animazioni lascia davvero a desiderare, così come l'effettistica generale. Su PS5 il gioco si muove a 60 fotogrammi al secondo senza scelte alternative e non c'è dubbio che il raddoppio del framerate rispetto ai precedenti episodi aggiunga reattività e precisione all'esperienza, specie nei tiri in movimento e nelle situazioni più frenetiche. Poco da dire invece sul sonoro, che alterna i soliti temi del franchise a dialoghi interpretati in maniera appena discreta, con doppiaggio solo in inglese e con sottotitoli in italiano. A ben cinque anni di distanza dal precedente capitolo era lecito attendersi miglioramenti più sostanziali per Sniper Elite 5. Un paio di zipline, la possibilità di salire sui rampicanti, la ricarica attiva e il potenziamento delle abilità sono novità gradite, ma la formula rimane quella di sempre, con i soliti problemi nella gestione delle sparatorie ravvicinate e un comparto tecnico incapace di competere con ciò che offre il mercato in questo momento. Un more of the same che migliora la serie, ma non fa percepire un vero stacco rispetto al passato. Voi cosa ne pensate? Tornerete comunque a vestire i panni di Carl Fairburn? Ditecelo nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie, e alla prossima!